La Conte e Aitini sono venuti insieme oggi, ieri era già venuto anche Alberto Aitini, sono stati gli unici due amministratori che sono venuti a trovarci, hanno detto il loro parere, ci ha fatto molto piacere perché ci hanno messo la faccia, sono venuti qua, hanno parlato con noi, quindi ci sono stati vicini non solo a chiacchiere, non solo con i webinar, ma infatti sono venuti qua in mezzo a noi a sentire che cosa avevano da dire e a esprimerci la loro solidarietà. Di questo ne siamo molto felici. Siamo qui, aspettiamo tutti chiunque, anche il sindaco, noi non ne facciamo un fattore politico, qui sono venuti da destra, sinistra, centro, chiunque.